Allora, oggi, anzi questa sera, LibreTV è in compagnia di Laura Palmieri, che è stata eletta, perché è stata appunto un'elezione, come portavo una delle portavoci della consulta di arte contemporanea di Roma. Allora, siccome il cronista è notoriamente ignorante, ci spiega un pochino di che si tratta, cosa fa questa consulta? Allora, la consulta è una cosa molto democratica, interessante, perché è un modo per rapportarsi all'amministrazione e, diciamo, gli addetti ai lavori dell'arte contemporanea a Roma si sono messi insieme nel tempo, quindi da circa tre anni era nata questa cosa, con l'intento di parlare e di rapportarsi ai problemi, alle necessità dell'arte. In questa situazione io sono stata eletta perché c'era bisogno di avere degli interlocutori artisti e siamo stati eletti cinque persone, che sono più o meno delle persone che si occupano di arte contemporanea, appunto, due critici e tre artisti. Io sono l'unica artista donna e ci tengo perché mi fa piacere che ci sia una rappresentanza femminile e quindi è stata una delle motivazioni per cui mi sono candidata. E molti artisti che volevano fare delle cose, abbiamo saputo che l'assessore Flavia Barca voleva parlare con la consulta di arte contemporanea, siccome ci sono dei gravi problemi a livello di museo, per esempio il macro, perché il macro è senza direttore da un sacco di tempo, non abbiamo una visibilità e non abbiamo un interlocutore che possa... ci siamo riuniti e molto democraticamente abbiamo fatto delle elezioni e siamo stati eletti da moltissimi artisti. Roma è una città che ha veramente moltissimi artisti, quindi questa è una cosa interessante perché non si vede mai e non si dà mai voce alle necessità, perché Roma è una città dove ci sono degli spazi vuoti che potrebbero essere affittati agli artisti in maniera anche molto democratica, con dei concorsi, ci sono dei musei che sono un po' allo sbando e questo sarebbe bello perché noi abbiamo delle idee, quindi vorremmo portare avanti dei progetti, stiamo organizzando dei tavoli, delle commissioni, un modo per lavorare insieme, abbiamo un po' fretta perché ci sono delle necessità urgenti, perché ad esempio il macro è senza direttore da sette mesi, quindi si ferma tutta l'attività di un museo. Ora, questi musei sono costati un sacco di soldi, 25 milioni di euro, cioè delle cifre spaventose. Allora, in questo momento si tende a... alcuni per esempio vorrebbero lavorare sulle periferie. Io per quanto mi riguarda, dirò una cosa come Laura Palmieri, mi piacerebbe sfruttare le strutture che già ci sono, perché è inutile che noi andiamo a cercare altre strutture, anche se in realtà l'esigenza degli artisti è quella di trovare, per esempio nelle caserme dismesse si potrebbe fare degli spazi autogestiti dagli artisti o comunque degli studi, che è la nostra urgenza massima perché Roma è molto cara per gli spazi e noi abbiamo bisogno di spazio. Poi l'altra cosa è che questi musei, cioè questa cosa della divisione tra centro e periferia, è una cosa che va un po' sfatata perché cos'è il centro storico, cos'è il centro di una città? Il centro è dove sei tu, il centro è dove si succedono delle cose. Allora è vero che molti cittadini ormai vivono in periferia, non gli importa più niente il centro, comunque diciamo che per farsi belle le amministrazioni continuano a ripetere delle frasi fatte, per esempio dicono faremo di Roma una città internazionale. Roma è già una città internazionale, è già una capitale del mondo, ce le ha già queste forze, quindi il nostro intento è quello di tirarle fuori, di farle vedere, perché veramente c'è uno scollamento tra la realtà e il mondo dell'arte, che io vorrei suggerire soprattutto ai politici, ma l'arte è una cosa che si vede, quindi vi ritorna anche come immagine anche a voi, quindi fate qualcosa, non queste cose ridicole di andare a farsi colonizzare dall'arte americana, noi abbiamo visto passare qui un sacco di mostre inutili, pacchetti di mostre, cose che vanno in giro così inutili. Quando qui avete un humus culturale fantastico, perché Roma è sempre stata una città molteplice, ci sono stati tantissime tipologie di gruppi, c'è stato sempre un dialogo, noi siamo abituati ad andare in giro con artisti che magari fanno una cosa completamente diversa della nostra, però siamo amici, poi magari siamo nemici sul lavoro, però insomma c'è una forza in questo, c'è un modo, e come, quindi in questo momento sentiamo l'esigenza di portare fuori questa energia, anche usateci ecco in questo senso, perché noi abbiamo delle cose, soprattutto abbiamo delle idee rispetto anche a trovare delle soluzioni, magari anche economiche, perché in questo momento saremo inseriti in un pacchetto economico, per esempio non si sa mai il bene e il destino se questi musei verranno venduti, diventeranno fondazioni, eccetera. Vorremmo riflettere insieme sul nostro destino, perché certe volte le scelte vengono fatte dall'alto e sono scelte sbagliate, quindi bisogna creare un sistema dialettico e trovare delle norme trasparenti, cioè la cosa più difficile, infatti io quello a cui tengo molto, è proprio per questo anche che io sono sempre molto più, diciamo, estrema, però cerco di mantenere una lucidità, cioè la cosa molto bella che bisogna imparare, che è molto semplice, è la democrazia, per cui che è successo? Noi abbiamo fatto un'assemblea, ci sono state le votazioni e stiamo cercando di rendere questa cosa sempre più trasparente, sempre più nelle norme, cioè entrare nelle norme, perché entrare nelle norme è una garanzia di libertà, per cui questa cosa è fondamentale, bisogna proprio ascoltare questa assemblea di artisti di cui noi siamo umilmente dei portavoce. Io ci tengo molto a questo ruolo in questo momento perché so che sono abbastanza oggettiva, ma anche so difendere delle cose importanti che con tanti artisti discutiamo sempre, per cui le cose importanti per noi sono gli spazi espositivi, gli spazi comuni, uno spazio dove poterci riunire, per esempio con la consulta, penso che adesso ci riuniremo intorno al macro perché in questo momento non è utilizzato, però sarebbe bello che noi non fossimo scelti così a caso, ma che ci fosse proprio avviare un percorso di rispetto per quello che succede, perché quello che sta succedendo è che stanno dividendo l'arte in arte alta finanza e poi lasciano tutto il resto come se fosse un territorio dove si va a chiappare. Non è così, non è una scorreria, l'arte è un territorio dove si dialoga di cultura, il museo è il tempio laico per eccellenza, cioè il museo è il simbolo della molteplicità, dove non ci sono differenze di religione, di razza, di niente, di genere, quindi dovrebbe essere il luogo dove, e questo per Roma è molto importante, perché noi qui veramente abbiamo il Vaticano, quindi sono dei posti dove sono il massimo rispetto della laicità e della democrazia, per cui andrebbe rispettata questa idea, ecco io questo spero che avvenga, poi è chiaro, ognuno farà delle cose, ci sono tanti gruppi, ognuno vuole dire delle cose diverse e sarà nostro compito rispettare quello che diranno i vari gruppi, perché appunto vale l'Assemblea della Consulta dell'Arte Contemporanea a Roma. Grazie. Laura, una domanda, da quanto tempo è che esiste questa consulta? Questa consulta è più o meno da tre anni, era nata da un gruppo spontaneamente, in cui c'erano alcuni, si chiamava Occupiamoci del Contemporaneo, proprio perché c'è sempre, come in tutte le cose italiane, questa urgenza. Allora, tutti, ogni volta, siccome a Roma c'è una speculazione, cioè l'unica industria romana sono i palazzinari, diciamo la verità, allora che succede? Loro sono in contatto, loro sì che sono in contatto stretto con la pubblica amministrazione, per cui restaurano, chiudono i musei, li mettono in sicurezza, vediamo questo museo all'Euro adesso, il museo romano, che succede? Lì ci vanno dieci persone al giorno, non basterebbe chiamare i vigili e dire fate entrare dieci persone, se ci vanno dieci persone al giorno, perché poi inoltre questi musei sono pure vuoti, questa è la cosa più drammatica, perché non c'è promozione. Allora che succede? Questi musei vengono restaurati, si creano queste strutture gigantesche, che poi vanno gestite, quindi la gestione dovrebbe farla il Comune di Roma, perché spesso nei musei comunali c'è il Comune di Roma che li gestisce. Allora che succede? Il Comune di Roma non ha abbastanza fondi, però magari hanno messo 25 milioni di euro per fare un museo, per restaurarlo, e allora dopo di questo museo non gliene importa più niente a nessuno, l'importante è che si sia speculato sulla costruzione. Allora su questo bisogna essere anche questo, monitorare e la struttura della consulta ha anche la funzione di essere un meccanismo civile di controllo dei cittadini, perché inoltre della consulta fanno parte anche gli utenti dei musei, ci sono un sacco di collezionisti, ci sono persone che amano l'arte e basta, e vanno ai musei di arte contemporanea e gli dispiace che vengano chiusi, quindi è molto importante di avere proprio questa comunità, che non sono soltanto gli addetti ai lavori quelli strettamente legati a artisti, storici dell'arte, eccetera, direttori. Invece la cosa interessante di questa benedetta gestione è che poi succedono quelle cose, per esempio la vendita dei biglietti online, che è stato un grosso scandalo. Allora che succede? Che il Comune o lo Stato italiano prendono il 2% su oltre, non so, il 7%, non so quali, delle cifre ridicole, su un biglietto che tu paghi anche 12, 15 euro, 20 euro per andare a vedere un museo pubblico. Adesso queste società di servizi che vengono strutturate in questo modo si peccano un sacco di soldi, ma chi li fa questi contratti? Ma non potete mettere dei soldi minimi, per esempio, che ne so, una parte di questi soldi che vanno all'arte contemporanea, visto che non riuscite, o comunque ai musei in generale, perché tutti i musei hanno diritto di esistere, io non sono contro un museo o un altro. Certo, mi dispiace molto, e lo ribadisco, che poi quando devono fare simbolo di qualcosa, poverini, quando riescono a parlare di cultura, i politici parlano sempre dell'arte antica, dell'archeologia, per cui anche quest'estate mi è successo di sentire Flavia Barca, e sono intervenuta, ho dialogato con lei, perché dicevo, ma scusate, voi volete fare questi musei, volete fare tutto questo rispetto dell'archeologia, ma Roma è una città contemporanea, non c'è consapevolezza, allora tutto questo crea un disagio, anche a livello istituzionale e internazionale, perché che succede? Che gli artisti italiani, anche quelli più anziani, non sono rispettati all'estero, non sono abbastanza rispettati all'estero, per cui succede che spesso questi artisti sono tutti disamorati del rapporto con le istituzioni, e quindi questo rapporto, non essendo noi difesi all'estero, abbiamo anche difficoltà a livello internazionale ad essere rispettati, certe volte noi abbiamo degli artisti che veramente sono importantissimi, ma proprio i primi artisti italiani, i più anziani, eccetera, e sono artisti che non conosce nessuno, oppure che non vanno in certe mostre dove ci stanno tutti gli altri, perché questo è sbagliato, cioè vuol dire che noi a livello istituzionale non siamo proprio rispettati in maniera dignitosa, inoltre questo che cosa crea? crea che ogni volta che fai una cosa in un museo pubblico, e questo a noi succede spesso, no, non succede spesso che facciamo una cosa in un museo pubblico, succede spesso che noi si sente un senso di disagio, perché magari uno riesce a fare una mostra per un puro caso in un museo pubblico, e non si sente neanche riconosciuto quel suo ruolo, perché sembra sempre che ti hanno dato una cosa in più o una cosa in meno, per le donne è ancora peggio, perché chiaramente sono sempre una minoranza, come in tutti i campi, e quindi questo è piuttosto grave. Comunque io ho finito, grazie. Bene, allora chiediamo questa... Spero si sia capito qualcosa. Come no, io ho pensato soprattutto, diciamo, il concetto che potremmo sintetizzare al massimo con un appello tipo Roma non è una necropoli. Esatto, è grande. E quindi, bene, allora niente, Laura, in bocca al lupo per questo incarico, poi magari ci possiamo risentire su LibreTV per dirci come va, come sta andando questo... Io spero sempre, ecco, quello che voglio fare come appello, e spero sempre, quando uno fa queste cose, vorrebbe fare tante cose, e poi subito c'è una macchina terribile di tecnica, proprio c'è una macchina che si muove e per fare le cose nel rispetto bisogna avere un po' di pazienza. A me piacerebbe lavorare tutti i giorni, ogni secondo, su questa assemblea, però indubbiamente abbiamo dei tempi tecnici, quindi alla fine l'assemblea sarà a fine febbraio. E per rispetto vorrei anche dire i nomi degli altri portavoce, che sono Raffaele Gavarro e Silvia Litardi, sono due critici, poi ci sono degli artisti, che sono Davide Dormino e Pire Cunellis, che si sono presentati insieme, e Laura Palmieri, che sono io. Grazie. Grazie ancora.